Stare in salute, in parte, dipende da te. Ascolta il tuo corpo e applica poche regole ogni giorno. Primo, segui una sana alimentazione. Diminuisci il consumo di alcol, azzera il fumo e pratica attività fisica. Consulta il Piano Vaccinale Nazionale per i vaccini a te dedicati e raccomandati e non dimenticarti dei richiami. Secondo, aderisci agli screening regionali gratuiti per il tumore al seno. Per il tumore al colon retto e per l'HPV papilloma virus. Ricorda, esiste il vaccino per i tumori HPV correlati. Il medico di famiglia valuterà i tuoi fattori di rischio personali e familiari per suggerirti percorsi di prevenzione personalizzata. Sul Frecciarosa da 13 anni, la prevenzione viaggia in treno. Sali con noi? Continuiamo il viaggio insieme per la salute. Visita il sito frecciarosa.it